Wella ragazzi, ciao a tutti le nicchia e bentornati qua su Farmix Simulator 22 nella mappa Italia Ragazzi come sempre, prima di cominciare con il gameplay, se può interessarvi, penso che ormai lo sapete ma lo ripeto sempre In descrizione ci potete trovare un link che vi permette di comprare questi e tanti altri giochi scontati In descrizione ci stanno i miei social, la lista delle mod che uso in questa serie E poi come sempre se vi iscrivete al canale ricordatevi di attivare la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video sul canale Allora, nell'usato non c'è niente per ora che mi interessi Dobbiamo comprare una cosa ragazzi, abbiamo un bel po' di soldi che abbiamo ovviamente fatto mi pare vendendo l'olio di oliva se non ricordo male E anche qualcos'altro, comunque dobbiamo comprare assolutamente, visto che ci siamo trovati bene Visto che abbiamo anche già comprato la lama nell'usato Dobbiamo comprare lo sweater, o lo swiffer, qua come cavolo si chiama insomma Allora, questo qua da 100.000 euro Base, cioè così com'è Ok Compriamo il carrellino per trasportare la lama E visto che il tutto è in negozio e mandiamo il tutto nel 54 che dobbiamo falciare Andiamo a scaricare la lama qua sopra Ma, scusa Cosa sbaglio? Come si mette la lama qui sopra? Boh Non cambia niente Vabbè, sai che ti dico? Non è poi così largo, va? Mandiamolo sul 54 così, dai, va? Eh, ci sto a diventare pazzo, non lo so Campo, 54, vai Vabbè, comunque sia, raga A parte aver comprato lo swiffer lì, insomma A parte aver comprato lui Dobbiamo comprare anche un'altra cosa Dobbiamo comprare, mi pare, dosso vecchio Masseria dosso vecchio Perché mi interessa Praticamente masseria dosso vecchio ci permette di Allevare le vacche Che a me interessa Oppure Oppure Prendiamo direttamente il terreno a vacche Che tecnicamente è meglio Perché costa di meno Il terreno quello direttamente a vacche Costa di meno E forse mi permette di prendere più vacche Perché se prendo dosso vecchio Sì, posso prendere le vacche Posso prendere Cioè Cioè, mi sembra un po' sprecato Vabbè, mi danno due terreni Con dosso vecchio Cascina addosso vecchio Con cascina addosso vecchio Mi danno un silo Mi danno un posto per dormire I maiali che abbiamo già Le vacche, appunto Bunker silo Un posto per le riparazioni Un serbatoio per carburante Invece se compriamo la M È proprio Per le vacche 300 vacche Mi sa che pigliamo questa Allora, va 829 mila euro Contro 2 milioni e 3 Ma pigliamo questa Allora, va La M Meglio Perché allora Qui ci guadagno due piccoli terreni I maiali Che già posso allevare Perché abbiamo Abbiamo questo, no? La D Abbiamo Masseria Parma Allora, pigliamo direttamente questi E via Allora Quante vacche? 300 Ok 300 vacche Ma Oh, ma io quasi quasi Sai che ti dico? Piglio pure i cavalli Ma sì 88 mila euro Vai Ma pigliamo pure quelli Pigliamo pure i cavalli 88 mila euro Speso tanto Ok Allora, oggi prendiamo vacche E cavalli Ok Qui abbiamo preso lo swiffer qua Che però si va a schiantare Ovviamente Da per tutto Allora Dunque Mi serve un camion Però uno di quelli Che scelto abbiamo Beh, uno Ce l'avrei volendo Da comprare C'è sta roba qua Ma sinceramente Ha pochissimi cavalli 150 cavalli Però mi serve un camion Non è neanche italiano Poi È proprio Sinceramente No, perché praticamente Ma mi serve solo Oh, aspetta Ma che sto a dire? Pidiamo questo Ce l'abbiamo Pidiamo un bel Fiat Quanti cavalli ha? 180 Meglio Vai, pigliamo questo Fiat 682 T2 Mi Vai, compra Allora Allora, devo comprare Animali Anche se è bello grande Devo dire E dove sta? Trasporta animali Mi serve Eccolo qua Ecco, se andate a incastrare Trasporta animali 80.000 euro Vai Che almeno abbiamo risparmiato Un bel po' di soldi Possiamo investire In qualcos'altro Oh, ci passiamo precisi Ce se passa proprio a pelo Allora L'abbiamo comprato Dove li vendono Gli animali In questa mappa? Bella domanda Ah, eccolo Ah, ok Vicino al venditutto Ho capito dov'è Andiamo Nel venditutto Raga A proposito di vendi Devo vendere quello Che ormai Non mi serve più E non lo so Se sto poveraccio C'ha a fa Non aveva il motore Potenziabile Vero? Però vabbè Mi accontento No, no Non c'è niente Di potenziabile Ma sai com'è? Un'occhiata Gliela dovevo pur da Vai Fiat 682 Mi pare Ho letto bene 682 Vai al venditutto Che lì compriamo Le prime vacche A proposito di comprare A proposito di Sbattimenti Ora che ci penso Visto che abbiamo preso Le vacche Mi sa che Devo anche prendere Un'altra cosa Molto importante Ci vuole un mixer E ci vuole anche La paglia Che non ce l'ho Ci vuole di tutta Di la verità Ma io già la paglia L'ho usata tutta E Andiamo a D'annocchiata Allora Beh abbiamo Allora abbiamo anche Da comprare I cavalli Effettivamente A proposito Come cavolo Ci vado qua Sulla N Che non c'è Un punto Non c'è Manca il punto Posso pigliare Un pochino Di Un po' di Dovremmo avere Un po' di avena Mi pare Per i cavalli Pidiamo anche Qualche cavallo Ovviamente Abbiamo comprato Pure quello Abbiamo comprato Anche quel recinto Oh Menomale Avena Non è granché Ma tanto Prendiamo Ma che ne so Pidiamo quattro cavalli Tanto lo sappiamo Che i cavalli Non è che rendono Granché Allora Siamo quasi arrivati Dai cavalli In pratica Manca Il percorso Che ci va Oh piano Cavolo L'ho presa Proprio male Sta curva Ok Allora Arrivati qua Segniamo Cavalli Bene Vabbè I cavalli Li compriamo Direttamente Tanto ne devo Comprare Pochi Cavalli Ne compriamo Sì C'è la tariffa Vabbè Ma tanto ne devo Comprare Giusto Che ne so Ne compriamo 3, 6, 9, 12 No 4, 4, 8 Beh Più o meno Sempre dispari Qua stiamo Va bene Ne pigliamo 4 Va 4 O ne pigliamo Ne 7 Va Poi si riproducono Va bene Tutti uguali Tanto Hanno tutti Lo stesso valore Alla fine Avanti Cavalli Do sta Scarica Il fieno Ancora lo dobbiamo fare Anzi a proposito di fieno Qui abbiamo balle di erba L'imballatrice Mi pare che si trova Già sul campo 54 Allora Campo 54 Vai Vai Speriamo che Mo' non si mette A sbandare di nuovo Vabbè Mo' che lavora Va più piano Allora Tecnicamente Questo dovrebbe Essere Fieno Già pronto Si lo è Perché Quello scuro Invece Erba L'erba E' più scura Il fieno E' più chiaro A posto Questo porca miseria N'ha fatto manco 100 metri ancora Ah qua ci dobbiamo installare Un'altra cosa Qui ci installiamo Adesso Una di quelle Queste qua Dell'acqua Così Posso dare Immediatamente Un po' di acqua La metto qua La metto qua Mi faccio portare Una di quelle Botti Che uso io Che mi trovo bene Ok E mo' scaricamo L'acqua Direttamente Da qua Così si fa Molto più in fretta Allora Diciamo che Per i cavalli Vabbè I cavalli Do stanno Questi vogliono anche Non vogliono la paglia In teoria Questi non ne pigliano paglia Strano Pensavo che la paglia La prendevano Pensavo che la paglia La prendevano Comunque Fammi una cosa Raga Visto che per il fieno Ci vuole mezza giornata Qua Una balla La compro E me la faccio Già portare Una Una di quella Grande Basta Una bella Balla di quella Grossa Ok Compra Ecco che Già se l'è presa E via E via Tanto con una balla Poi cibo base Avena E via La cavalcata giornaliera Se la fa da solo Che abbiamo pure qua La mod Della cavalcata Ovviamente vi ricordo che in descrizione C'è sempre il link Con le mod Allora Eeeh Do sta il camion Che devo ancora Comprare gli animali Anzi andiamo un attimo A guardare Comunque appunto Sto terreno M Che abbiamo comprato Dove cavolo è Ma perché non c'è Ma perché non c'è Il simbolo Per andarci Ma non è strana Sta cosa Porca miseria Quindi mi tocca Fa il percorso Cioè Non c'è modo Di andarci Su sta M Beh noi dove siamo Vabbè non è tanto lontana Di la verità Se io salgo qua Questa però è solo erba Non mi aiuta Anzi Questa erba La devo scaricare E anzi A proposito Dato che dobbiamo Fare le balle Bisogna andare Sul 54 Poi per caricarle Ah è vero Che sta arrivando La petta Che deve prendere Un altro pochino Di Allora Animali Cavalli Vai Almeno la petta La uso Un po' Vediamo di scaricare No No Sbagliato Sbagliato Ok Allora Mandiamolo Sul 54 Mandiamolo Mandiamolo Lì Che poi Pogliamo Le altre Balle Ok Il camion Oddio Che è successo Come cavolo C'è finito Qua Ah ok Non mi dire Che sbatte Ah no Saranno i lampioni Boh Ce la fammo In salita Dai che c'ha Dai che c'ha Fa Allora Voglio Le vacche No Le pigliamo Già mature Solo sette Come sette C'è Sto coso Ne trasporta Massimo 12 Pensavo Che ne Pogliamo Un po' Di più Porca Miseria Così Poche Io forse Era meglio Se me le facevo Portare Va No Beh Boh Solo 12 Sono veramente Poche Allora Qui sta Andando Pian pianino Il macchinario Pian pianino Va Allora Mi pare Che dobbiamo Aspetta Ma io il percorso Qua ce l'ho Prima che vado Ah c'è Da che parte Ci devo andare Ah dritto E poi a destra Boh E lì sopra Ragazzi Ce li abbiamo Non ci abbiamo Neanche il mixer Ancora Ancora Non ci abbiamo Il necessario Mi sa Per dargli da mangiare Ovviamente Ah vabbè Tanto devo andare Proprio da destra Io E il percorso Me lo devo creare Orca miseria Qui che è stretto Sì La parola Eh Eh no Che miseria Era meglio Che non lo compravo Era meglio Che me le facevo Portare È troppo stretto Magari Una volta Buona Beh Comunque Il percorso Lo devo creare Lo stesso Ovviamente Mi serve Però è troppo Scomodo Andare in giro Con questo Insomma Dove devo andare Su Giù Bu Più Più o meno Qua Ma le vacche Dove le vado A scaricare Vabbè Io Mo qua Segno Mucche E mo Cerco di capire Dove le devo scaricare Ma Però Scomodo È È scomodo Qua Col camion Non va bene Dove cavolo Sbatte No niente Il camion Cioè Non è colpa Del camion È proprio È proprio Troppo stretto Il posto Ok Allora Vediamo Se Ecco Dove le devo Portare No Vabbè Ma No Eh Ho fatto Una pessima Scelta Non è proprio Questione Qua Cioè Non si può Fà No 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 A parte che Già ne trasporta Poche per quanto Mi riguarda Ma Mo Sai che te dico Me lo rivendo No Il camion No ma Ma porca miseria È impossibile Mi Me do cosa Super forza Qui raga Come faccio A A A manovra Non si può Fà qua Troppo stretto E Niente Cavalli Poi Sto povero Camio No Mo Vendiamo Sto cassone Qua Me le faccio Portare Direttamente Se no Passo Mezza giornata Qua Me le faccio Portare Ragazzi No No Passiamo Mezza giornata A far Manovre Scaricale Scaricale Buona Stacca Vendiamo Sto coso Ragà Troppa Fatica Per niente Eccolo Vabbè Ci perdo 10.000 euro Amen Ma no Non se può Non se può Vabbè Però Lo posso Anche Parcheggiare Qua Questo Poi vediamo Che farci Qualcosa La trovo Famo una cosa 60 vacche Le voglio Me le compro Direttamente Allora Vediamo No queste Quelle pronte Erano Sì Mì quanto costano Aspetta Fammi capì Ne voglio 60 No Eeeh 48 Mi costa Mi costa 3.800 euro Fammele portare Dai Ma bene L'avessi fatto Prima 60 vacche Cominciamo Da 60 Vediamo Poi Perché Non so Quanto cibo Ci vuole E tutte Ste belle Cose Ma Che per caso Abbiamo Un mixer Qua Perché se Il mixer C'è Ovviamente Non mica Lo vado A comprare Qui ci va L'acqua Qui che Cacchio Ci va Non lo so Ah no Da qui Forse si Caricano I liquami Da qui Letame Forse Boh Comunque qui ci va L'acqua di sicuro Qui a quanto pare Ci va Il cibo No mi sa che Il mixer Non c'è Con tutti i soldi Che ho speso Un mixer Mi sarebbe piaciuto Da qui Probabilmente Si prende Il latte Eeeh Boh E niente Non c'è un mixer Non credo Non credo Proprio Ok Allora Beh Gli 70.000 euro Che Che ci siamo Fatti tornare Indietro Sai che Te dico Famo una bella Cosa Raga Famo proprio Una bella Cosa Allora Facciamo così Compriamo Direttamente Il mixer Quello Su ruote Che è Meglio Quello Economico Mi basterà Ok Poi Qua ci vuole Di sicuro Un trattore Piccolino Ma non è che Ce n'era uno Nell'usato Dammi questo No Tu no Eeeh Poi Mi serve La botta Dell'acqua Perché L'acqua La dobbiamo Da Una bella Botta Di quella Però Non complicata Animali Botte Questa Sì 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 Questa È perfetta Poi Pichiamo Il solito Questo Magari Lo piazzo Qua Vediamo Non lo so Dove lo piazzo O piazzo Qua Risolviamo Così Allora Per l'acqua La risolviamo Così È meglio Meglio Investire Su quel Macchinario Che Che diventare Pazzi A fare Le manovre Troppo La mappa È stretta E Non va bene Quell'attrezzatura Grande Vediamo Allora L'acqua Penso che Va scaricata Qua Ok Vediamo un po' L'ape è arrivata Diamogli Un altro pochino Di Di cibo Ai cavalli Allora Le vacche Sa da spostare Qua dentro Animali Scarica Allora I cavalli Di sicuro Adesso Vanno Bene Diciamo Possono stare Un paio di giorni Senza ombra Di dubbio Sì Vabbè Hanno abbastanza cibo Le galline Va bene Questi vanno Bene I maiali Beh Tutto sommato Galline Ok Poi gli devo dare da mangiare Qua va bene Oh Allora Qui Abbiamo per ora Messo so Ah Acqua Poco ne prende Va bene Latte Paglia Latte Paglia Vabbè Razione mista Ci vuole Ah Razione mista Mo Siccome Siamo un po' Incasinati Che non abbiamo Niente Facciamo una Razione mista Di quella Che compriamo Per ora Le cose Facciamo una Razione mista Alla Sbrigativa Per ora Questo lo togliamo Da qua Spegni Motore Toglimi La super forza Allora Dobbiamo Comprare Vediamo Le balle Ovviamente Una Allora Una Balla Da 8000 Di questa Una piccola Balla Di paglia E una Bella Balla Di Questa Buona Sarà Di insilato Allora Allora E la Risolviamo Così Questa Prima Piccola Mangiata Poi Poi Vabbè Un po' Di insilato Lo devo Fa E Sì Devo Fare un po' Di tutto Devo fare L'insilato Devo fare Il fieno Lo stiamo Fa Allora 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 Senza esagerare Che poi Sono cavoli Amari Dammi Prima L'insilato Che è meglio Va bene Un po' Di paglia Devo stare Attento Stop Ah la paglia È finita Va bene Allora Siamo in rosso Ma ora Sistemiamo Con questa Piccola Con questa Balla Dai Oh precisi Porca miseria Mi è andata Bene Allora Lato Di scarico C'è scritto Dove cavolo È il lato Di scarico Ripiega Non lo vedo Non lo vedo Mica Vabbè È quello Giusto Apposto È così Raga È così Almeno Un po' Di cibo Gli abbiamo Dato E ancora Mi avanzano Ancora mi avanzano Un milione e due Ma meglio che abbiamo comprato questo terreno Raga perché se compravo quel terreno Se ne andavano tutti i soldi E poi non potevo comprare altre cose Almeno abbiamo comprato il macchinario Un piccolo trattore Un piccolo trattore Un piccolo camion Abbiamo comprato Lo sweater pack Insomma Almeno abbiamo comprato quattro cose E abbiamo ancora un po' di soldi extra Meglio è Ok Allora Diciamo che le vacche Mo' Chiaramente Ancora non è sufficiente Però Quasi quasi compro Una balla di paia Se me la portano Qui L'ha già presa No Dov'è finita Ah la è Vabbè Quella balla di paia Che la vorrei dare Per la lettiera No Quella balla di paia Sarà la nostra La lettiera Degli animali Gliela possiamo dare Con questo macchinario Tranquillamente Basta caricarla tutta La balla E gliela diamo Anzi Sai che ti dico Ne compro un'altra Dovrebbe apparire qua Gli diamo Gli diamo un bel po' di paia Così Gli diamo pure quella Ok Quella che avanza Poi è buona Per la prossima Razione mista Almeno per ora Gli abbiamo dato qualcosa Perché purtroppo Fieno non ne abbiamo Insilato non ne abbiamo Paia non ne abbiamo Quindi L'unica era Comprarle queste cose Ok Scarica paia Perfetto Così raga Così le vacche Hanno tutto quello Di cui hanno bisogno Sta bene Sta bene Ok Addirittura paia 20.000 massimo Va bene Ma anche il cibo Non è che ne prendono Tanto eh Diciamo Sarà un 50.000 Ora poi Sarà facile Farlo Non appena Appena raccogliamo Quel fieno Lì insomma Ci devo fare anche Ci devo fare anche Un pochino Di Insilato E di insilato Dovrei anche fare Oh cadete Ok Va bene Ragazzi il tempo È volato via E avrei voluto fare Di più Magari con più calma Ma purtroppo Il tempo Vola Quindi Sono andato un po' veloce Perché volevo fare Tante cose E le abbiamo fatte Però chiaramente Abbiamo corso Vabbè Raga Spero vi sia piaciuto Il gameplay Almeno Su questa serie Ci stiamo adesso Finalmente portando avanti Ora che i soldi Iniziano ad arrivare E Che dirvi raga Vi invito a commentare A iscrivervi E Lasciate un pollicione in su Ci becchiamo presto Ciao alla prossima raga Ciao